Cina della colazione 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 guardate anche il vaso che bello che è forte una fatica una fatica che mai adesso dobbiamo farci facciamo rimettere sotto oh beh quello è pulito ah no si vede ancora la macchia non è venuta via no qui è venuto pulito va bene bene dai fatto bene 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 bene